Noi al sindaco posso dire che faremo del tutto affinché questa splendida città possa essere conosciuta non solo da tutto il mondo, essendo la capitale mondiale della cultura, ma soprattutto che sia conosciuta dai nostri 3 milioni e mezzo di aderenti che possano nel corso degli anni poterla venire a trovare. Federanziani vuole fare una convenzione sul turismo con la regione, Federanziani oggi apporta circa 10 milioni di euro di turismo alla vostra regione per quello che può fare un'associazione, cioè noi non siamo una multinazionale né siamo lo Stato, ma è un'associazione che dà credo qualcosa tra noi come SIT e i nostri come hotel tourist apportiamo un contributo di oltre 120 milioni di euro di turismo di cui 10 qui da voi nella vostra regione. Vorrevo fare molto di più.